Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto e nemmacchia. Non sapete che siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro cuore. Siamo disposti a donare a Dio quello che egli stesso ha riscattato a caro prezzo? A donare tutte le nostre capacità per la sua gloria? Vogliamo andare a Cristo per illuminare le nostre coscienze? Lasceremo che ci purifichi gli affetti? Come possiamo camminare con Cristo ogni giorno? Possiamo aggrapparci all'aiuto che Dio ha previsto per noi. Il Signore ci ha detto chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Dio ci ha comprati, riscattati e chiede un posto, il trono in ogni cuore. Per questo non possiamo seguire la nostra volontà, ma lo Spirito Santo ci guiderà per rinnovarci e santificarci. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.